Ma ora drink pacco, il reparto che fa acqua da tutte le parti. Nalgene Folding Bottles da 3 litri. Beh, da pochissimo abbiamo parlato delle nuove Grail in titanio, ma ci sono occasioni in cui abbiamo la necessità di stoccare, di trasportare un bel po' d'acqua fresca. Magari vogliamo recuperare una buona riserva d'acqua per averla a disposizione durante un viaggio o un campo, magari un tantino più lontano dalla fonte d'acqua, oppure, è chiaro, per un'emergenza. Se siete curiosi di sapere quanti sistemi esistono per portare l'acqua durante le nostre avventure, vi rimando al Backpackocast perché ho registrato una puntata tutta dedicata ai sistemi di porto. Beh ragazzi, per quanto riguarda la Nalgene Canteen da 3 litri, si tratta proprio di quello che vedete. Un ottimo contenitore pieghevole che non occupa spazio se non è in uso. La costruzione è tostissima, trattandosi non di semplice materiale plastico, ma di un multistrato. Rimane abbastanza flessibile e resistente, ma allo stesso tempo è tosta. La bocca è molto grande per permettere un riempimento rapido, il maniglione con l'anello comodo. Ragazzi, 3 litri d'acqua sono 3 chili e immaginate adesso di doverli portare su per una montagna a mano con un manichetto scomodo e tagliente, come è capitato a me un paio di volte. Non succederà con la nuova Nalgene Canteen da 3 litri. Ottimo anche ragazzi il sistema di ritenzione qui del tappo, altrimenti questa è la prima cosa che perdiamo. È perfettamente lavabile, mi sembra logico, è riutilizzabile. Costruita negli Stati Uniti, che ci piace. Se non l'avete già fatto, vi consiglio di ascoltare anche la serie del Backpackocast sul Bugout Vehicle, perché è proprio uno di quei casi in cui fa comodo avere un contenitore di questo tipo. Con una Grail da 500 ml, beh, si riempie tutta di acqua filtrata in 5 minuti. Il volume preciso del contenitore è di 2,8 litri, ok? Il diametro del tappo ben 63 mm e da vuota pesa 78 grammi. La consiglio chiaramente a tutti gli avventurieri e ai fuoristradisti, a chi vuole godersi l'outdoor, il campeggio e ha bisogno di una riserva d'acqua, anche semplicemente per non andare sempre a prenderla o a comprarla. Chiaramente utilissima per le giornate passate al mare e a chi vuole portarsi una scorta di sangria, che qui ci va pure il ghiaccio. Dai, che scherzo. O forse no. Beh, è ovvio che è utilissima per i prepper, che vogliono un sistema di trasporto dell'acqua, o sporca o pulita, dipende ragazzi, però è affidabile quando serve. Io vi rimando a tutti i nostri sistemi di trasporto e filtraggio dell'acqua, che ormai sono diventati tantissimi, e ai quali si aggiunge la Nalgene Canteen da 3 litri. Se questo video ti è piaciuto, fammelo sapere con un pollice in alto qui sotto. E iscriviti al canale per non perdere neanche una delle prossime novità. Grazie.